Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto con un nuovissimo videocorso. Vari tra voi conosceranno un'applicazione web il cui nome è Linktree, scritto Linktree, che trovate anche commentata qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea. Si tratta in sostanza di un'applicazione, ecco perché Alberotree, che ci permette di creare una sorta di pagina web dedicata verticale con dei bei pulsantoni personalizzabili che permettano, catturando così l'attenzione di chi guarda, di poter cliccare ed essere rimandati ad un video, ad un approfondimento di testo e così via. Tanto per essere chiaro, guardate qui al centro della home page del servizio che vi sto per presentare, che cosa otterremo. Bene, in realtà grazie alla segnalazione del mio buon amico Albano Battistella, il Master Seeker, il ricercatore della rete, vi vado a proporre una nuovissima alternativa open source a base di software libero a Linktree, il cui nome è Single Link, facilissima da utilizzare dalle grandi potenzialità e che ancora vedrà sviluppi. Proviamola subito. Allora, sito di riferimento, osserviamolo nella barra degli indirizzi del mio browser, www.singlelink.co. Vi ricordo che la prima volta occorrerà cliccare su Get Started For Free. Andando ad inserire, lo vediamo insieme, l'indirizzo email del nostro account, d'accordo, la password per potervi accedere, ma badiamo bene, nel secondo campo, lo vediamo, possiamo già personalizzare l'indirizzo web finale. Anche se ci sbagliamo, lo potremo correggere, ma se già sappiamo come titolare la nostra applicazione web tematica, per proporre ad esempio un argomento, facciamolo qui. Io, avendo già effettuato la registrazione, come accadrà per voi, vado a cliccare a destra su Log In e vado ad inserire i dati che ho appunto prescelto in fase di prima registrazione. Nel mio caso ho ritenuto di utilizzare un account Google personale, vado a confermare la password e verrò ricondotto dove? Alla dashboard, alla bacheca del servizio. Allora, guardate bene che cosa succede. Non è pubblicità progresso, però, insomma, per farvi capire che cosa otterremo, ecco qui la preview mode, l'anteprima, che ci mostra, apprendo da mobile, l'indirizzo che osserviamo qui in alto, personalizzato, in questo caso col mio nome e cognome, che cosa si otterrà. Immaginate un impiego di single link per discipline o per singoli argomenti. È un modo di mantenere alta l'attenzione, di ingaggiare allievi e destinatari, così lasciando fuori i fronzoli, ciò che non conta. Attenzione, se noi creiamo la prima volta una applicazione single link per creare altre applicazioni tematiche, sposto il mio faccione verso l'alto, guardate che cosa dobbiamo fare. pulsante rotondo in basso a sinistra, dove c'è il primo profilo creato, al mio nome e cognome. Clicco su Create New, crea un secondo profilo che avrà una denominazione casuale. Lo clicco. Ecco, se osservate, a questo punto l'anteprima è tornata bianca. Cioè, è sempre l'utente Andrea Cartotto che utilizza single link, però ha un profilo che può dedicare a che cosa? Ad esempio, ad alcuni contenuti tematici per proporre a scuola approfondimenti e riflessioni sulla data importante per il nostro paese, quale quella del 25 aprile. Bene, io clicco su Add New link, pulsante viola, e ho dei campi da riempire. Come nei migliori programmi di cucina, lo sapete, ho già preparato in alto due ricerche che ho effettuato con il mio browser che rimandano in un caso a una breve storia della liberazione, fonte ansa.it, una delle agenzie di stampa più autorevoli in Italia, e poi un approfondimento di Rai Cultura, sezione storia, di nuovo approfondimento, fonte autorevole, dedicata alla figura di Sandro Pertini, presidente amatissimo da tutti gli italiani, ma soprattutto una figura cardine di questo periodo, davvero, come dire, intenso e controverso, quale quello della seconda guerra mondiale e della sua appendice. Bene, attenzione, torno alla mia prima etichetta, l'abel, che è proprio il nome di etichetta, il nome dell'etichetta, è ciò che i destinatari visualizzano. Quindi, in questo caso, io che cosa vado a mettere? Vado a mettere storia della festa della liberazione, badate bene come vado a riempire questi campi, il sottotitolo è opzionale, ma può aiutare la comprensione. In questo caso, io che cosa specifico? Eccoci qua, specifico, fonte, due punti, ansa.it, approfondimento sul 25 aprile. Ecco, il link URL, quasi non dovrei dirvelo, è in realtà il campo all'interno del quale ospito che cosa? Clicco sulla linguetta festa della liberazione, in alto nella barra degli indirizzi, seleziono con il tasto sinistro del mio mouse l'indirizzo di partenza, clicco su di esso con il tasto destro del mouse e poi scelgo con il tasto sinistro la voce copia. A questo punto torno sulla mia linguetta single link, clicco sul link URL, quindi nel campo link URL, tasto destro e sapete che ormai non ve lo dico neppure più, dopo l'operazione copia non può che seguire la operazione in colla. A questo punto se ho riempito in maniera corretta i campi necessari, posso scegliere se cliccare su save and add link per proseguire oppure se cliccare su save and continue per andare avanti. Vado a cliccare sul pulsante grigio in questo caso e attendo qualche istante il caricamento della mia risorsa, del mio single link. vado ancora a fare un clic sul pulsante grigio, eccoci qua, vado ad effettuare un clic a vuoto avete visto, quindi in questo caso poiché mi restituiva un errore assolutamente casuale ho effettuato un clic al di fuori a vuoto ed ecco qui potete osservare cosa risulterà, cioè avremo una pagina web dedicata un po' come una app appunto contenente delle risorse da noi selezionate avete visto che cos'è la label cos'è l'etichetta che cos'è il subtitle che cos'è il sottotitolo ecco ci mancano alcune cosine ancora da effettuare io potrei cliccare sul pulsante viola add new link per proseguire ed arricchire di tastoni la mia applicazione web ma attenti andiamo a cliccare a questo punto su settings pulsante delle impostazioni e guardate un pochettino allora campo details a che cosa serve questo campo dettagli ve lo mostro subito clic su headline il titolo e qui che cosa andiamo a precisare la resistenza in Italia subtitle approfondimenti per lo studio a questo punto posso personalizzare ed anzi vi consiglio devo personalizzare spostiamo ancora il mio faccione l'indirizzo che potrò fornire ai miei alunni o destinatari qui sul mio canale youtube trovate anche un video corso pratico su bit lì con la y finale bit.ly in cui vi mostro come ulteriormente personalizzare un indirizzo web ma rimaniamo qui su single link vedete io in realtà cancello quella sequenza di lettere e numeri e digito storia 25 aprile e nella tendina visibilità visibility io vado ad inserire in realtà quale dicitura la dicitura public no sensitive content non ci sono contenuti per adulti chiaramente e sarà l'opzione che sceglieremo maggiormente possiamo anche inserire un avatar cioè una immagine che possa caratterizzare in alto la nostra web app a voi la scelta ma quel che più conta è che personalizzati questi campi dobbiamo ricordarci di cliccare sul pulsante biola save changes salva cambiamenti lasciamo qualora non ci di alcun fastidio il watermark cioè la filigrana parole ancora più povere la firmetta che vedete qui proudly built with cioè orgogliosamente costruito con non è obbligatorio e ci viene anche indicato ma è un modo per far conoscere ancora di più questa risorsa clicco appunto sul pulsante viola save changes e guardate nella preview mode che cosa accadrà eccolo qui questa è la modalità mobile la modalità mobile come vedete ha tenuto conto di tutte le modifiche che abbiamo inserito vediamo appunto la preview mode in versione mobile ma modificando la tendina avremo la modalità desktop bene vi dicevo che questo è il link di riferimento che noi abbiamo generato che rimarrà immutabile e che possiamo dunque pubblicare su classroom diffondere mediante mail prossimamente se osservate cliccando sul pulsante con il quadratino e la freccia che guarda verso destra eccoci qui arriverà coming soon la possibilità di ottenere che cosa direttamente un QR code per presentare ancora meglio questa nostra web app single link e la condivisione sui social media ma penso credo che gli sviluppatori vorranno implementare anche risorse note per la didattica a distanza e poi la dd quali ad esempio google classroom microsoft themes o altre ancora ebbene a questo punto non ci resta che e non vi resta che mettere alla prova single link lo ricordo ancora una volta l'alternativa open source alla nota applicazione link 3 che dire da andrea cartotto è tutto sembra un po' striscia la notizia ve lo dico un caro saluto appuntamento sin d'ora al prossimo videocorso e a voi prova pratica su strada ciao ciao